La seconda edizione del progetto Bello e Buono, l'iniziativa rivolta ai bambini con situazioni di svantaggio sociale e familiare del territorio napoletano, ha portato in scena al centro polifunzionale Oasi di San Giovanni a Tediuccio la rappresentazione dal titolo Giochiamo a Pinocchio. Qui hanno partecipato bambini e ragazzi che hanno preso parte ad un laboratorio di espressività organizzato dalla Fondazione Valenzi. Sono intervenute ai nostri microfoni Lucia Valenzi e Lucia Precchia, rispettivamente Presidente della Fondazione e responsabile del progetto. Vediamo che cosa hanno dichiarato. La nostra fondazione, la Fondazione Valenzi, a differenza anche di altre fondazioni che si fermano agli aspetti culturali, politici, ha dato sempre una grande importanza a questo aspetto del nostro progetto sociale, che appunto si chiama Bello e Buono e che oggi a San Giovanni ha avuto uno sviluppo ulteriore importante e questo è il nostro momento conclusivo. Il problema è che noi dobbiamo realizzare una sperimentazione nel momento in cui non abbiamo la forza economica di realizzare un'impresa a larghissimo raggio. È importante che diamo delle nuove indicazioni e in questo però pensiamo che poi un ruolo devono svolgere anche le istituzioni, cioè non è possibile che tutto venga delegato soltanto all'associazionismo e al volontariato. Questo progetto nasce dal desiderio della Fondazione di sostenere i bambini delle fasce deboli e delle periferie della città rispetto a quello che per noi è essenzialmente il bello, quindi l'arte, l'arte della pittura, l'arte della musica e il teatro, che ai bambini risultano immediatamente buoni perché per un bambino ciò che è bello è immediatamente anche buono. Quindi noi abbiamo provato a fare un lavoro di prevenzione primaria in quartiere periferico della città, dove in qualche maniera abbiamo scelto bambini molto molto piccoli perché abbiamo scelto di lavorare con la prima infanzia per potercela portare avanti rispetto alla cultura e all'arte, per poter educare i bambini verso un pensiero critico e una capacità di elaborare per se stessi poi una capacità di relazione sana nel mondo reale di oggi. La manifestazione è stata organizzata anche grazie alla collaborazione dell'Associazione Figli in Famiglia con il sostegno della Fondazione Banco di Napoli, della Compagnia San Paolo di Torino e del Pio Monte della Misericordia ed è stata patrocinata dall'Unicef. Abbiamo sentito Carmela Manco, presidente dell'Associazione Figli in Famiglia e Margherita Di Niciacci, presidente dell'Unicef Campania. Il progetto Bellebuono nasce dalla collaborazione con la Fondazione Valenzi e ha visto impegnati una trentina di bambini di questo quartiere. È stata una gioia realizzare questo progetto insieme perché per una volta il centro viene verso la periferia e scopre una periferia bella, fatta non solo di tristezza ma anche di belle cose. L'Unicef, che è garante internazionale dell'infanzia, deve sostenere ciò che di positivo e di valido si fa in favore dei bambini e poiché la Fondazione Valenzi con questo progetto veramente eccezionale sta curando i bambini a disagio di San Giovanni a Teduccio non potevamo non esserci per dire bravi a quelli che lo fanno, con sacrifici, con fatiche, ma per dire anche agli altri muovetevi, Napoli è un'unica Napoli con dieci grandi città che fanno parte di un'unica città, di un'unica realtà e se vogliamo che Napoli continui a testimoniare al mondo i valori della civiltà, della solidarietà, dell'amore deve partire dai bambini, altrimenti non avrà futuro. Partire dai bambini vuol dire partire da questi bambini di San Giovanni a Teduccio che hanno creatività, intelligenza, capacità ma che hanno bisogno di essere seguiti e di acquistare fiducia nelle loro possibilità. E restando in tema di solidarietà continuano le manifestazioni a favore degli spollati per il sisma dell'Emilia è stato infatti fissato per il 2 luglio presso la Rocca Sforzesca di Imola un doppio concerto il cui ricavato sarà interamente devoluto ai cittadini dei comuni colpiti dalle scosse. Ad esibirsi saranno Michael Neiman, celebre pianista e compositore ed una selezione di band italiane nell'ambito della rassegna Michael Neiman, Ibola per l'Italia e con questa notizia si chiude anche quest'edizione del WebTG di Unica Channel. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.